In democrazia, quando un governo e la sua maggioranza parlamentare hanno fallito, bisogna ridare la parola ai cittadini. Qualsiasi altra soluzione o è passicciata o è da regime o è transitoria e solo in via di emergenza. E' questa la premessa da cui parte l'Italia dei Valori nell'affrontare il lavoro da fare da qui ai prossimi mesi. Lo ha dichiarato oggi a Pescara il leader del partito, Antonio Di Pietro, in uno degli incontri organizzati nelle diverse regioni per valutare come ricostruire il Paese sul piano della credibilità, delle riforme istituzionali e delle manovre economiche necessarie dopo la tragica media berlusconiana. Nel caso di specie, ha spiegato, riteniamo che alle elezioni si debba andare al più presto, ma non con questa legge elettorale. Con il governo Monti dovrà esserci solo un rapporto corretto e istituzionale delle commissioni parlamentari. Non possiamo dare la nostra fiducia ai provvedimenti che deve emanare fino a quando non sappiamo chi sono i componenti della squadra di governo, ma soprattutto qual è il programma e quali sono i provvedimenti che vuole emanare. Li vedremo di volta in volta, li apprezzeremo o li denuncieremo, dall'esterno, senza alcun coinvolgimento governativo e senza alcuna partecipazione ad eventuali coalizioni che appoggiano questo governo. Perché non mi ci vedo proprio nelle riunioni di maggioranza, né credo che ci si possa, con quelli del centro-destra, né credo per esempio che possano esserci riunioni di maggioranza fra Cicchitto e Bersani. Mi parrebbe un rapporto contro natura. Se fosse addirittura tra noi e loro sarebbe demoniaco. Saremo accanto a Monti nella lotta agli sprechi e privilegi della casta, ha aggiunto Di Pietro. Sulla patrimoniale invece c'è da discutere tutti insieme e soprattutto bisogna che paghi chi non l'ha mai fatto finora. Può essere istituita, dipende dal limite da cui si deve partire e soprattutto se deve riguardare solo una patrimoniale immobiliare o anche mobiliare. Io credo che proprio per rispetto del governo Monti e per rispetto delle commissioni parlamentari l'entità specifica sia da individuare in un dialogo fra tutti i gruppi politici.